Dopo quasi 15 anni di discussioni sullo sviluppo dell'ex area zuccherificio, si è ancora il capolinea, con continui rimpalli di responsabilità e lungaggini burocratiche che bloccano le richieste portate avanti dalla società Madonna Ponte, con grandi difficoltà economiche e finanziarie, in un periodo di forte crisi di mercato. Oltre a questo, l'amministratore unico Gabriele Duranti ha sottolineato che sono ancora in attesa dell'approvazione della variante urbanistica iniziata nel 2009. Inoltre ha evidenziato quanto sia di intralcio la mancanza di decisioni da parte dell'amministrazione comunale, provinciale e quella regionale, un progetto che, secondo Duranti, in questi anni è stato ostacolato anche dagli operatori commerciali locali ed ora l'immobilismo ha fatto regredire il territorio fanese rispetto alle città limitrofe della costa. La società si rende disponibile a discutere sullo sviluppo dell'area e anche a farsi promotrice nei confronti degli istituti di credito interessati, purché ci sia un accordo programmatico con le amministrazioni pubbliche e venga data quindi una risposta in termini di investimenti e di posti di lavoro. Diversamente, conclude l'amministratore, il progetto sarà destinato a fallire e quello spazio resterà in balia di zingari che porteranno delinquenza e degrado.